A te Cipracca, corsa assist, qualità, oggi il gol, cosa chiedere di più? È un periodo, nella sfortuna di tanti infortuni del resto del gruppo, per te è un periodo pressoché perfetto, magico? Eh sì, hai ragione, dai, finalmente è arrivato questo gol che tu lo sai meglio di me, mancava da un po' di tempo, me ne annullavano un paio, oggi finalmente è andato dentro, è stato un gol importante, abbiamo sblocato la partita, sì, sono contento, dai, insomma, ovviamente se lo rivedi l'ho tirata fuori, ho colpito un avversario e poi è andato dentro, quindi insomma, è veramente un altro brutto gol. Però c'è stato coraggio anche perché sul tentativo alla Bettega, tra virgolette, di Sessi con il liscio, poi sono arrivati difensore e portiere e tu hai allungato la punta del piede proprio all'ultimo con grande rapidità, perché non colpendo la risa sarebbe stata loro la palla, senz'altro. Sì, sì, ho provato, un grande assist di Sessi, effettivamente, un gran colpo di tacco. Tanto ride perché c'è Muisa che sta arrivando fuori dalla telecamera e gliene sta dicendo di cotte di crude, chiaramente. L'azione di Muisa, oltretutto, lì è nato tutto da un suo... Sta arrivando. Dalla sua azione. Ciao! Si ride, si scherza, questo vuol dire che nonostante i due punti che permangono tali, purtroppo, dall'UFM, in ogni caso adesso arriva anche Episcopo. Ecco, lui fa soltanto la finta, non dice niente al microfono, però, insomma, si capisce anche da queste situazioni che, a parte la gioia per la vittoria, è un momento da cavalcare a pie pari per l'Unione, insomma, un momento buono, si prendono pochi gol, si riesce comunque a segnare abbastanza, si vince in trasferta sempre rispetto a un'andata più balbettante, lontane dal Rocco. Adesso bisogna solo aspettare e sperare che perdano un paio di punti là davanti. Eh sì, il discorso è sempre quello, noi dobbiamo pensare solo a vincere e ci soffriamo un po' comunque ultimamente perché anche se eravamo sul 2-0 abbiamo riaperto noi la partita con quel rigore, se siamo un po' più attenti, cioè non subiamo niente, purtroppo poi siamo lì a soffrire gli ultimi minuti, così si rischia, però adesso ci sta andando bene, insomma, aspettiamo la sconfitta del Monfalcone, dove ti dica, aspettiamo, speriamo, insomma, se dopo le oro le vincono tutte, bravi loro. Chiaramente non è bello augurarsi le sventure altrui, però questa è la realtà delle cose, insomma, se non perdono punti loro si può vincerle tutte, che la situazione non cambia. Bravi loro, bravi loro, gli daremo la mano a fine stagione. Perfetto, allora aspettiamo questo cenno di fair play, speriamo di non trovarlo a questo punto perché vorrà dire che la Tristina avrà completato l'operazione sorpasso e promozione in diretta in Serie D. Grazie Matteo, anche perché davvero questo periodo è magico e ti auguriamo che possa continuare il più a lungo possibile. Grazie, grazie veramente. Grazie mille a Matteo Cipracca, a questo punto aspettiamo che arrivi mister Costantini e poi chiuderemo questo spazio interviste. Andiamo avanti direttamente? Allora cambio, esce Matteo Cipracca, entra il mister. Buonasera mister. Non so se ci ho guadagnato. Questo non mi esprimo, non mi pronuncio, non mi sbilancio. Mi pronuncio invece sulla partita che, insomma, partita complessa, complicata, campo difficile, avversario tonico, tosto e anche in discreta forma dal punto di vista dei risultati. Successo con cinismo, meritato, continua la striscia positiva. Ora bisogna aspettare, come si diceva con Matteo, che perdano punti là davanti. Ma intanto pensiamo a vincere noi come abbiamo fatto oggi, con delle difficoltà chiaramente legate a una squadra che in settimana si era allenata in maniera non proprio ottimale per il fatto che molti di questi ragazzi vi vengono da dei problemi, da degli acciacchi. Chiaramente non era facile, infatti alla fine sono usciti franciosi e monti acciaccati, stavano male tutta la settimana, abbiamo recuperati solo nella rifinitura. Zetto è entrato in campo per onor di firma, perché purtroppo il regolamento ci mette nella condizione di dover mettere gli under. Chiaramente avevo in panchina la Pine che era messo come Zetto, per cui sicuramente era una settimana che mi preoccupava molto. Il fatto di aver vinto, al di là dell'aspetto tecnico, dell'aspetto tattico, chiaramente sono felice per questi ragazzi perché hanno dimostrato una volta di più cioè forse è stato bisogno che è squadra, è gruppo in tutte le sue manifestazioni e questo mi fa molto molto piacere, più diciamo del risultato alla fine perché ritengo che quello che stanno facendo è veramente meritevole di essere sottolineato. Tant'è che guardando i risultati nel giornale di ritorno è una striscia record a stile Monfalcone all'andata, praticamente tutte vinte, solo due pareggi, fin qui ci auguriamo ovviamente che possa continuare. Comunque vincere in queste condizioni di gruppo con defezioni in tutti i reparti numerosissime, vincere contro un avversario così in forma e con tre settimane adesso davanti è una discreta botta di vita. Ora si può anche pensare di recuperare qualche pezzo. Sì, come ho avuto già modo di dire, arrivare diciamo in columi dal punto di vista dei risultati è sempre vicino a chi ci sta davanti, è importante, questa sosta arriva a puntino mentre quella precedente di Natale non l'avevo molto gradita, questa invece arriva a puntino abbiamo bisogno di recuperare al di là dell'aspetto proprio fisico, da traumi, da piccole situazioni che ci stiamo trascinando, anche da un punto di vista nervoso. Staccare la spina per qualche settimana può essere veramente importante per lo sprint finale preparandoci bene come abbiamo sempre fatto, però abbiamo la possibilità anche di fare degli allenamenti con una maggiore serenità. Nelle ultime settimane vedevo il gruppo stanco, non l'ho mai detto ho sempre cercato di dire che andava tutto bene, però la verità era che mi accorgevo che non eravamo più fluidi, eravamo meno brillanti, però era estremamente importante fare i risultati li abbiamo fatti, con un pizzico di fortuna, con il Lumignacco, molto bene domenica oggi abbiamo meritato di vincere pur facendo fatica soprattutto negli ultimi 20-25 minuti. Non subendo comunque nemmeno un tiro in porto, tant'è che è arrivato con un episodio da penalty insomma il gol dell'1-2 definitivo di Mazzolo del Lignano. Mister, 23 punti su 27 fin qui conquistati nel giornale di ritorno, restano in palio ancora 18 insomma riuscendo a farne già 15 potrebbe essere una buona media, ci metterebbe la firma? Beh, in dubbio, comunque sono 26 su 30. Eccolo, eccolo qua, 26 su 30, me ne ho scordata una, quella di oggi giustamente. Sì, comunque, sei, non ero molto bravo in matematica, comunque. Ma neanche io a sto punto. Comunque al di là delle battute, no, mi fa piacere per i ragazzi, abbiamo fatto qualcosa di importante, dobbiamo provare a vincere le prossime 5 gare, 6 gare, le prossime 6 gare di conseguenza, insomma. Dobbiamo essere bravi a ripartire con la stessa volontà di adesso, con la stessa determinazione, consapevoli che sarà un testa a testa fino alla fine. Noi, come ho detto, dobbiamo guardare a noi, poi è chiaro che alla fine bisogna guardare agli altri, dipende anche dagli altri in questo momento, però io sono ottimista perché abbiamo fatto tanto e penso che alla fine qualcosa ancora ci meritiamo per quello che stiamo facendo. C'è un po' di credito. Allora, adesso la pausa. Pronti per ricominciare, recuperando magari qualche pezzo, pronti in agguato a lanciare l'assalto definitivo finale alla capolista? No, intanto l'assalto al banchetto pasquale, facciamo e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti gli sportivi triestini e a tutti i supporters della Triestina che ci hanno sicuramente incitato e aiutato a arrivare fin qua, a tutti che possa essere una Pasqua serena, dieta, di tuffarci, come abbiamo detto, intanto sul banchetto e poi dalla domenica successiva cerchiamo di buttarci sull'avversario cercando di avere ancora appetito per provare a fare dei punti che ci servono come il pane, si dice così. Tanto due settimane per digerire saranno abbastanza. No, no, beh, ma non c'è problema. Io penso che ho ragazzi, come ho sempre detto, bravi, intelligenti, per cui non ci sarà problema in questo senso.